No! Saranno quasi quattro ore che stanno andando avanti così. L'ultima volta si sta così facile a far portare Rishi Venom. Forza piccolo, Rishi, aspetti! C'è qui della cioccolata, tutto per te! Ehi! Abbiamo provato di tutto! Anche con la cioccolata! Ma non ha funzionato! E quindi? Ci serve il tuo aiuto! Che tipo di aiuto? Io sono ma, non ci capisco molto di parti simbiontici! Eh! Non preoccuparti! Non serve che tu ci capisca molto! Seguimi! Coraggio senti Venom! Ci siamo quasi! No! Vi prego! Lasciatemi! Sto fermo, umano! Abbiamo quasi finito! Sì, ma... Ecco, lo vedo! Vi prego, toglietelo! Vi prego! Vi prego, toglietelo! Che carino! Sì, lo è! Grazie mille, umano! Di niente! Pancreas! No! No!